un alcol su amazon lo voglio utilizzare per pulire la pelle prima di di fare il pungidito e vorrei utilizzarlo anche per sgrassare la pelle prima di mettere il sensore tipo il descom o di mettere prima di mettere l'homipod sto facendo un video perché il prezzo è al momento mi sembra assurdo 3 euro e 20 prime vuol dire che forse domani me lo consegnano spedizione in un giorno se fanno in tempo a spedirlo stasera che sono le 8 e me lo consiglio in un giorno e 3 euro e 20 compresa spedizione cioè io a 3 euro e 20 neanche neanche riesco a farla la spedizione di un di un prodotto di queste dimensioni qua invece questo 3 e 20 vediamo le recensioni ci stanno 4 stelle e mezzo che è già tanto 4 stelle e mezzo andiamo a leggere le recensioni ottimo disinfettante con buon potere sgrassante odore gradevole peccato non si possa usare su cutelesa buon potere sgrassante è ottimo disinfettante non si può usare su cutelesa sulle ferite quelle proprie aperte però voglio dire sulle sul buchettino lasciato dall'homipod si imballaggio vergognoso potevano inserire in uno scattolino in un cartone fragile da piego libri allora l'hanno inserito semplicemente dentro la carta beh è importante che arriva sono soddisfatta ha un buon odore la confezione è arrivata in ottimo stato come sempre lo uso per la pulizia del telecomando quindi c'è pure un buon odore oltre a essere disinfettante sgrassante detergente per mani germicida conforme alla descrizione di inviato nei tempi prestabiliti non credo possano insorgere problematiche diversamente aggiornerò la mia recensione buoni acquisti a tutti bene qui anche la parola germicida è ottimo per l'utilizzo del pungidito infatti io poi lo utilizzerò insieme ai batuffoletti di cotone che compro da mouse che già ce l'ho anche le piante si trasmettono le malattie è importante disinfettare gli arnesi che uso per potare le piante questo salvaguardia legale ok questa non ci dà altre informazioni non brucia questo mi piace molto sta cosa qua perché a volte io utilizzo anche per aiutare a togliere il sensore lo bagno un pochettino con l'alcol se per caso però sotto c'è qualche cosa la pelle si è un po sbucciata dice brucia invece magari potrei utilizzarlo allora vedi tutte le otto recensioni penso che l'abbiamo finita bene ragazzi vi metterò il link amazon di questo prodotto qua e anche altre cose che che utilizzo questo io magari dei prossimi video se ne rimarrò particolarmente soddisfatto farò un video magari vedrò se non mi è piaciuto come prodotto al momento siccome io l'alcol rosa è una delle cose che utilizzo di più potrei utilizzare questo invece del solito alcol rosa costa poco di più dell'alcol rosa preso al negozio che mi costa mi sembra costa 1 50 1 70 qui costa 3 20 però il fatto che non bruci è comunque una bella caratteristica non da poco va bene un saluto ciao ciao